Ciao, io sono Vittorio. Ciao, io ciao Luca. Siamo due dei tre soci fondatori di Mimoto Smart Mobility assieme ad Alessandro. Mimoto Smart Mobility che cos'è? È il primo scooter sharing elettrico made in Italy lanciato lo scorso ottobre a Milano. È un progetto innovativo in quanto è tutto gestito tramite applicazione, abbiamo inventato un sistema senza chiave. Lo scooter è un mezzo elettrico e quindi ecosostenibile ed è un servizio free floating, quindi lo prendi e lo lasci dove vuoi. Rispetto quindi agli altri competitor abbiamo tutto questo in più e soprattutto abbiamo dei soci e dei partner made in Italy. Esatto, abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie a dei partner industriali e dei shareholder completamente italiani attraverso il completamente due round sotto forma di equity e prevediamo di aprire un terzo round nell'estate prossima per far entrare nella compagina di Mimoto alcuni partner industriali sempre predileggendo l'Italia. Il piano di espansione è molto ambizioso, prevediamo di aprire prossimamente in città italiane e si prevede anche un'apertura internazionale in città dove è necessario avere un servizio di sharing innovativo come Mimoto. Allora, dove siamo oggi? Mimoto ad oggi ha 100 scooter operativi su Milano e siamo pronti a mettere in strada altri 150 scooter per la prossima primavera. e abbiamo ottenuto un ultimo grande record che è quello di un tasso medio di utilizzo per scooter al di sopra di tutti i competitor europei. Avanti così e salta in sella Mimoto. Esatto, quindi guardiamo il futuro. O mi sbatto o mi nuoto.